Dello starter, partiti in questo istante i cavalli della terza corsa, il premio Welnor. Davanti ci va San Bartolini, Golden Spendet, scusate, si trascina in seconda posizione, Babison Fire, poi al suo esterno Davidia, in quarta all'interno contra, Queen of Nass, il mitico Pera, Sciuetta, Witwot e chiude lo schieramento San Bartolini. Si sta andando con un bel ritmo, imbastito da Golden Spendet, che ha mezza lunghezza al suo esterno Davidia, poi segue le mosse dei due Babison Fire, contra, al suo fianco, ancora più all'esterno c'è Queen of Nass, tallonata dal mitico Pera, poi un trio formato da Sciuetta, Witwot e San Bartolini. Anche in questo caso gruppo ben raccolto, cavalli che adesso vanno ad affrontare la curva con Golden Spendet davanti, a mezza di vantaggio ai confronti di Davidia, Babison Fire in terza all'interno, Queen of Nass che comincia la sua lunga progressione all'esterno di tutti, contra, ancora Temporeggia all'interno, poi il mitico Pera all'esterno di Sciuetta, Witwot e ancora San Bartolini in coda. Cavalli che adesso vanno ad affrontare la dirittura d'arrivo di pista piccola, Golden Spendet che comincia la sua lunga progressione, messa sotto severo attacco da Davidia, che tende a passare al centro della pista, c'è Babison Fire, poi ancora più all'interno contra in ricerca di spazio, all'esterno c'è il mitico Pera, anche Sciuetta che cerca di progredire, siamo a 300 dal palo, Davidia è passata in vantaggio, deve respingere l'affondo di contra all'interno, che tende a passare ancora più all'esterno Babison Fire e il mitico Pera. Se la vanno a giocare contra è Davidia, contra è Davidia, contra controlla nei confronti di Davidia. E per il terzo, Babison Fire. Luca Maniezzi in sella, colori della Scuderia delle Rose, training di Mario Massimi. Grazie. 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 Grazie.